Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, allora ho titolato ultimatum a Dybala, perché che cosa sta succedendo? Sta succedendo che col passare dei giorni insomma Dybala si è un po' stancato di aspettare l'Inter, colleghi assolutamente affidabili di Roma sostengono che abbia scelto la Roma, vedo che i bookmakers però sono ancora un pochino indecisi cioè Inter e Roma in questo momento sono più o meno sullo stesso piano sulla destinazione di Dybala un po' più indietro c'è il Napoli, francamente adesso qualcuno si arrabbierà perché come sempre è arrivato Lukaku, sta per arrivare Bremer, adesso tutti coloro che mi avevano scritto che Dybala sarebbe stato un problema, visti i 4 attaccanti che abbiamo, perché c'è anche una scuola di pensiero che ritiene che Correa potrà fare un grande campionato, poi è tornato Lukaku e sapete che non avrei mai avuto dubbi nella scelta tra Lukaku e Dybala, però adesso so già che società, non hanno preso Dybala, Dybala effettivamente è stato trattato come l'ultima scelta possibile dall'Inter, quindi se Dybala a un certo punto dà un ultimatum è anche comprensibile perché a un certo punto dopo che lui ha tirato la corda e come se l'ha tirata, ha cominciato a tirarla all'Inter, ha cominciato a rendergli complicati i bonus, a ovviamente legarli alle presenze, però ragazzi scusate se lo dico, ma sono tutte cose giuste per quello che è stato il passato recente di Dybala, poi il giocatore non lo discute nessuno, sicuramente se va al Napoli, ma non credo andrà al Napoli, il Napoli fa un grande salto di qualità, se va alla Roma lo stesso, ecco mi sorprende se non dovesse poi all'ultimo momento, perché ragazzi qua ogni giorno guardate che con Dybala dobbiamo stare in campana, se non dovesse venire all'Inter, ma facciamo pure che non venga più all'Inter, devo dire che avrei pensato io fossi Dybala sarei andato al Napoli, sarei andato al Napoli perché al di là della tradizione argentina di Maradona, se vogliamo anche di Sivori, se vogliamo anche di Cavani, se vogliamo anche di Guain, al di là di tutto questo il Napoli fa la Champions, ragazzi secondo me la discriminante è fare o non fare la Champions per un giocatore del livello di Dybala e quindi devo arguire che Mourinho è importante, perché la Roma fa l'Europa League al di là della Conference League che ha vinto, anzi fa l'Europa League proprio per aver vinto la Conference, però se a un certo punto Dybala rinuncia al Napoli, facciamo che l'Inter a un certo punto l'abbia accantonato, ma se rinuncia anche al Napoli dove avrebbe la possibilità di fare la Champions, evidentemente è perché sceglie Mourinho, sicuramente Mourinho ha un peso importante nella sua decisione. Poi io penso sempre che alla fine sono i soldi che fanno la differenza, pensare che Dybala vada a guadagnare solo 4 alla Roma, non ci credo, probabilmente gli daranno i soldi che prende Abram con bonus molti più facili di quelli che ha proposto l'Inter, a Roma comunque arriverà a meno 6 milioni Dybala, se davvero Roma sarà la sua destinazione. Però ragazzi non ho dubbi, sicuramente ve l'ho raccontato che col passare dei giorni l'Inter guardandosi in casa, anche nelle partite se vogliamo amichevoli negli allenamenti, si è domandata se a un certo punto portare qui Dybala, a parte il costo, non potesse comportare più casini che altro, anche perché vorrei spiegare una cosa a chi ancora non l'ha capito, è vero che Inzaghi ha fatto qualche prova con se vogliamo correre a trequartista, ma insomma mi pare abbastanza evidente ed è duro da accettare per Dybala che Dybala viene qua a prendere il posto di Sanchez, cioè Dybala viene qua a fare la terza barra quarta punta e poi naturalmente sempre che ci sia la voglia di piazzare Correa o Dzeko, io sapete come la penso su Dzeko, Dzeko è l'unico attaccante che non fa i mondiali secondo me resta, opinione personale, quindi eventualmente o ti tenevi 5 attaccanti o al limite vedevi poi di piazzare a fine mercato Correa, però Dybala ragazzi posso dire che era il numero 4 o il numero 3, perché la Lula è intoccabile, su questo siete dalla mia no? Cioè Lukaku, Lautaro, io capisco i fan di Dybala ma credo che neanche per la famiglia Dybala, forse per Antun, si possa discutere la Lula all'Inter, quindi lui facciamola breve, qui veniva a fare il Sanchez della situazione e siccome ha già piantato dei chiodi incredibili Sanchez era prevedibile che Dybala poteva piantare dei chiodi, dei chiodi intendo mettere giù il muso, fare un po' di casino, lo ha fatto Sanchez, Dybala insomma collego sviluppato che ha, però credo che abbia preso un duro colpo e a trovarsi a metà luglio a dover scegliere il ripiego Roma perché ragazzi non raccontiamocela, è comunque un ripiego, Dybala voleva venire all'Inter, in cuor suo spera che ancora qualcosa incredibilmente lo possa portare all'Inter, e però va bene, non è detta l'ultima parola, ragazzi non sto facendo la volpe l'uva, avessi i soldi prenderei anche Dybala, per Rey Correa, mi farei tranquillamente 5 attaccanti, qual è il problema? Però non sono soldi miei, sapete che bisogna anche vivere un po' di sostenibilità, però francamente sono molto contento dell'arrivo di Bremer, anche per me, anche nella mia casistica una volta arrivato Lukaku, Dybala era scivolato in fondo, perché questa è la grande verità che nessuno ha il coraggio di dire per rispetto a Dybala, ragazzi Lukaku ha spedito Dybala in fondo alle gerarchie, cioè la rapidità dell'arrivo di Lukaku che nessuno prevedeva all'Inter, con tutto quello che ha comportato, ha spedito proprio Dybala in fondo, quindi Dybala credo che guardandosi un attimo allo specchio se la può prendere solo con Lukaku, oltre che un po' con se stesso, perché secondo me se avesse fatto meno il furbo la Juve, se avesse cercato comunque di essere più ragionevoli in alcuni casi, se non avesse fatto quello che criticava Allegri e magari non tanto neanche davanti, probabilmente a quest'ora avrebbe un'altra immagine, invece la gente del calcio si parla e quindi sapete che Beppe Marotta è bravo, bello, buono, intelligente, ricco e generoso, ma a un certo punto anche se ha un patto con Dybala e a un certo punto vede che Inzagli dice guarda che ci abbiamo quattro forti attaccanti e teniamoci questi perché non vorrei che mi creasse casino e sapete quando ho capito che la situazione, perché il più grande sponsor di Dybala oltre a Marotta è stato Zanetti, ma anche Zanetti l'ultima intervista alla TV Argentina si è lasciato sfuggire, beh però stiamo bene così, come attaccanti stiamo bene così. È stato un po' scaricato, ebbene sì, adesso lui dà quest'ultimatum perché viene soprattutto, indovinate chi sono i dirigenti internazionali o chi sono coloro che hanno detto alla Roma ok stiamo per scegliere la Roma, è l'entourage di Dybala, questo per dare, pensa lui dal suo punto di vista uno schiaffo all'Inter e quindi ci sta di titolare ultimatum Madibala, però ragazzi vi invito come sempre qui da questo meraviglioso scenario montano col laghetto ricordatevi che non è mai, più importante non è mai quello che dice per primo, soprattutto le cose di mercato, più importante è sempre quello che lo dice per ultimo, perché per ultimo arriva come pietra tombale, ragazzi il comunicato ufficiale della società, e comunque vedremo se sarà così, visto che sono in un silenzioso panorama montano ne approfitto per salutarvi urlando un VIVA L'Inter! Ciao!